Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio condividere con voi alcuni libri e riviste da collezione per amanti della moda, ma non sono riviste di moda in cui si parla dell'outfit, in cui si danno consigli di moda, sono praticamente delle riviste, dei libri che riportano dei disegni di modelli, di abiti particolari, quindi a me piace tantissimo sfogliarli, guardarli. In realtà ce n'è una categoria particolare che adoro, ma che ho smesso di collezionare per mancanza di spazio, perché sono dei libri barra riviste veramente grandi come dimensione, quindi in casa mia che è piccolissima non mi ci stava più niente, quindi per un po' li ho comprati e poi ho smesso. Però io le adoravo e voglio partire proprio da questi, perché si tratta della categoria maggiore, diciamo così. Ovviamente non voglio tenervi incollati al video troppo a lungo e annoiarvi, quindi vi farò vedere giusto qualcosa di esempio. Però ho tutta una serie di riviste di moda marfi, queste qua. Moda marfi è bellissima, sono tutti abiti di alta moda, con alcuni cartamodelli in omaggio, quindi se sapete cucire potete anche rifarvi il vestito e se poi invece vi piace qualche abito particolare potete acquistare il singolo cartamodello. Quindi diciamo che in un certo senso è un po' una rivista catalogo, però io non le acquistavo per il modello, ma semplicemente perché mi piaceva proprio avere queste riviste, sfogliarmi queste pagine con questi abiti. Questo in particolare è Primavera Estate 2001. Poi abbiamo Primavera Estate 94, mi piace tantissimo la camicetta in copertina. Ha queste maniche, non mi ricordo mai come si chiamano queste maniche, se lo sapete scrivetemelo nei commenti, perché vorrei andarmi a comprare una camicetta con le maniche così, quindi fare qualche ricerca. E anche qui, come vedete, abbiamo questi modelli. A me piace tanto il fatto che non si tratta di fotografie di modelle o di indossatrici, ma proprio di disegni. È questo che mi piace. Questo è autunno-inverno 2003-2004. Vi faccio vedere qualcosa, vedete degli esempi così. Poi ho autunno-inverno 96-97. Anche in questo caso ci sono degli abiti, questo è più autunnale perché è smanicato. Poi così, questo qui con le maniche lunghe, una giacca con dei pantaloni. E poi questo, Primavera Estate 93. E anche in questo caso abbiamo questi disegni con questi abiti. Alcuni sono molto particolari, altri invece magari più semplici. Questo ad esempio è molto particolare, molto carino. Comunque io adoravo sfogliare queste riviste. E facevo anche una cosa, disegnavo i modelli che mi piacevano di più. Li ricalcavo in realtà, perché io non sono capace a disegnare. Però ricalcare sì. Mi piaceva ricalcarli e ricolorarli. È un'attività che mi piaceva tantissimo. Vi faccio vedere qualcosa. Questi li avevo ricalcati e colorati io. Vedete, c'è stato un periodo in cui mi ero praticamente impallata con questa attività. Vedete, questi qui li ho fatti io. E mi piacevano tantissimo. Li ho conservati tutti in questo quaderno. Poi, a proposito di disegni, vi faccio vedere invece dei disegni che ha fatto mia mamma di modelli di abiti, che però non ha copiato e ricalcato. Li ha ideati lei. Non ve li faccio vedere tutti perché sono tantissimi, però ha soltanto qualcuno. Ad esempio questo. Spero lo vediate perché so che c'è riflesso. Comunque questo l'ha disegnato mia mamma a mano libera, perché lei è bravissima. Io ho conservato tutti i suoi disegni perché mi piacciono veramente molto. Ha fatto tutti gli abiti da sposa in questa cartellina. Vedete, così. Ve ne faccio vedere solo ancora uno, tanto per darvi l'idea. Questo ha fatto tutti molto molto belli. Comunque li tengo gelosamente in una cartellina, come tutti i suoi disegni. Perché i disegni a mano, a matita, che fa, mi piacciono molto. Poi, sempre di moda marfi, ne ho anche due da sposa, proprio dedicati alla sposa. In questo caso in copertina c'è la foto di una modella, però poi all'interno ci sono invece i disegni. Vedete, sono proprio disegnati, sono così. Spero che vediate qualcosa perché c'è riflesso e qui sono abiti bianchi soprattutto. Comunque questo qui delle spose è veramente bellissimo. Questa era un'edizione speciale che era legata ad un altro moda marfi, però io lo avevo acquistato a parte come arretrato. Ed è il numero 63. Invece questa è la seconda edizione speciale numero 74. Anche qui c'è la foto di una modella, ma all'interno invece ci sono i disegni. Quindi non sono foto, sono proprio disegni. Probabilmente un catalogo con fotografie di una modella non lo avrei acquistato, perché non mi avrebbe interessato granché. Invece i disegni mi piacciono moltissimo e allora ho deciso di acquistarlo e di collezionarlo, anche se in realtà non mi sono sposata, quindi non mi è servito per prendere spunto. Però mi piace, quindi me lo sono comprato. Adesso però cambiamo genere. Vi faccio vedere un fascicolo di moda. È proprio un fascicolo, ecco qua. Degli anni 50, di preciso è del 52. Ed è francese. Me l'aveva regalato mia mamma, l'ha preso in un mercatino in cui vendevano delle cose usate. Comunque questo è bellissimo, perché è proprio un fascicoletto di moda, però degli anni 50. È tutto scritto in francese, però per fortuna è una lingua che riesco a leggere. E quindi ho anche letto qualche pagina. Non l'ho letto tutto in realtà, perché poi queste cose mi piace di più sfogliarle. Però è comunque proprio molto carino. Vi faccio vedere ancora un paio di cose. Vedete qua ci sono anche le immagini. Quindi questo è proprio da collezione. Poi vi faccio vedere un altro libro decisamente più moderno. Libri anti stress da colorare, abiti incredibili. Sapete che mi piace colorare. Quindi siccome gli abiti fanno parte della moda, mi sono comprata questo libro con gli abiti da colorare. Ora, combinazione questi sono identici, sono gemelli. Non so se sia un errore di stampo o se sia voluto. Comunque ci sono questi abiti fatti così, tutti da colorare. E anche questo è stupendo. Poi un altro regalo di mia mamma. Mode e modi dell'Ottocento. Quindi la moda dell'Ottocento e i modi dell'Ottocento. È un regalo che mi aveva fatto anni fa e che è molto interessante, perché parla proprio delle usanze e della moda di quegli anni. Ovviamente con le immagini e le fotografie degli abiti d'epoca. Quindi questo è davvero un libro bellissimo, che quando l'ho visto mi ero subito innamorata a prima vista. E poi vi faccio vedere tre libri un po' più tecnici invece, che vanno bene soprattutto se vi piace cucire. Io amo fare lavori manuali come maglia, uncinetto, cucito. Però a dire la verità il cucito l'ho un po' abbandonato, perché sono anni che non cucio, se non degli orli, dei bottoni o delle cose così. Oppure quando mi devo stringere le maglie, perché sono puntualmente sempre troppo larghe. Però sono più lavori di riparazione che di vero e proprio cucito. Comunque a proposito di riparazione della Singer erano usciti alcuni libretti e io ne ho presi due. Questo qui cura e riparazione degli abiti e ci sono all'interno delle tecniche, delle spiegazioni per riparare gli abiti, per aggiustarli con tutte le fotografie. È fatto molto bene. E poi ho questo che è tecniche di cucito, sempre della Singer. Questi li avevo comprati anni fa usati, in un mercatino dell'usato. Credo che siano degli anni 80 forse, non so. Comunque sono interessanti perché anche se sono più vecchi, le tecniche di cucito o le tecniche per riparare un abito sono sempre validi. E poi un altro libro che io conservo da collezione perché è antico è questo, Enciclopedia dei lavori femminili. Si intitola così ed è un libro, un'enciclopedia in realtà, che comprende tutte le tecniche di maglia, maglieria, uncinetto, cucito, macramè, ricamo, i tessuti. È veramente interessantissimo. Ci sono anche tutti i punti spiegati molto bene, tra l'altro. C'è anche il telaio, vedete qua. È veramente interessante. Questo è proprio un libro antico, proprio antichissimo. Credo che sia, non so se degli anni 20, vedete che comunque si capisce, si vede che è un libro antico. E questo senza dubbio è da collezione. Poi finisco con un libro che in realtà è un testo scolastico, ma parla di moda e cucito. Modelli base dell'abbigliamento. Parentesi. Io ho fatto un istituto tecnico femminile, non un istituto professionale. Un istituto tecnico. Cinque anni, con diploma di maturità, mi sono poi iscritta all'università, quindi il mio diploma ha esattamente lo stesso valore che ha il diploma di un liceo scientifico. Questo lo specifico, perché quando si parla di cucito si potrebbe pensare che è un istituto professionale. Invece no, era un istituto tecnico classico, cioè classico nel senso cinque anni, con diploma di maturità, esame di maturità, eccetera. Solo che trattandosi di un istituto tecnico femminile, quindi l'iscrizione era riservata alle femmine, facevamo anche delle materie che venivano considerate, diciamo, un po' più femminili. Io non voglio categorizzare, non voglio offendere nessuno, però comunque è più probabile che il cucito, la maglia e l'uncinetto interessino magari a una donna piuttosto che a un uomo, non perché voglio discriminare e dire che sono lavori da donna, sono lavori che possono fare tutti, tutti quelli che amano quell'attività lo possono fare. Però è vero che statisticamente è più probabile che piacciano a una donna piuttosto che a un uomo, non per una questione di femminismo o maschilismo, è che semplicemente queste cose creative magari affascinano di più le persone di sesso femminile. Tutto qui, quindi non fraintendete assolutamente il mio discorso, non vuole essere una categorizzazione, non voglio dire che ci siano lavori da uomo e da donna. Semplicemente ho constatato che i gruppi di cucito, di maglieria, di sartoria eccetera sono frequentati di più da donne, però se ci fossero anche degli uomini per me non ci sarebbe nessun problema. Detto ciò, io facevo all'interno delle materie scolastiche cucito e maglieria e cucito aveva come libro di testo questo qui, che è molto interessante e l'ho conservato perché insegna a realizzare un modello, quindi dalle vostre misure voi potete realizzare un modello e farvi un vestito che vi piace. Non è così semplice, perché comunque questa materia non era così semplice come può sembrare, perché un punto è il cucito, il punto del cucito eccetera, che se vi piace siete portati magari lo fate anche, ma costruire un modello era una cosa un po' matematica, un po' geometrica, quindi io facevo un po' di fatica perché come sapete se mi seguite io ho un problema di discalculia, quindi non era così semplice. Però è un libro interessante che ho voluto conservare, libro che tra l'altro piace anche tantissimo a mia mamma, lei cuciva benissimo, cuce benissimo e quindi anche lei appassionata di queste cose ha voluto conservare questo libro insieme a me, adesso ce l'ho io a casa mia perché negli ultimi anni mi sono interessata un po' di più al cucito e volevo rivedere delle cose, però diciamo che è un po' di tutte e due, ce lo passiamo un po' di qua e di là, di casa in casa. Questi erano tutti i miei libri riviste da collezione, fatemi sapere nei commenti, soprattutto se conoscevate moda Murphy e se vi piace, io lo trovo veramente molto bello. Spero di avervi tenuto compagnia comunque perché questo è lo scopo del video, come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme. Grazie a tutti.